Abbiamo visto quindi quelle che sono le posizioni dei socialisti dinanzi alla guerra, naturalmente si tratta di posizioni particolarmente intricate dal punto di vista storico, abbiamo visto appunto la situazione nel 1914 e come in qualche modo ci sia stata una sorta di, potremmo definirlo così, effetto Jean Jaurès, il quale ha condannato la guerra. In linea abbiamo detto rispetto a quella che doveva essere la posizione ufficiale dei partiti socialisti e dei partiti socialdemocratici all'interno dell'Europa, ma come anche il 31 luglio del 1914, egli venne assassinato da Raoul Villon, il quale era un nazionalista che in qualche modo era legato all'ambito esattamente borghese, nel momento in cui man mano si stava comprendendo che la guerra fosse ineluttabile. Abbiamo riflettuto anche su come di fatto la borghesia, un certo certo classe capitalista legata all'industria delle armi, anche potremmo dire che gli stati maggiori dell'esercito fossero in qualche modo legati strettamente appunto alla guerra. E invece il socialismo, in virtù del proprio stesso internazionalismo e del suo stesso pacifismo, avrebbe dovuto assumere ben altre posizioni, del caso specifico di Jean Jaurès, non a caso appunto assassinato, e per esempio del partito socialista italiano o dei bolshevichi nel mondo russo. E quindi quello che realmente però si è realizzato è stato appunto un allineamento, potremmo dire, di tutti i partiti socialisti europei nei confronti di quelle che erano le classi dirigenti, rispetto quindi a quello che era effettivamente la borghesia e gli interessi stessi della borghesia. Una contraddizione che indica, abbiamo riflettuto anche, come in un certo senso la stessa popolazione, la stessa classe proletaria di fatto ambisse più a dei miglioramenti dal punto di vista economico e salariale che effettivamente una lotta per la propria specifica emancipazione in senso autenticamente rivoluzionario. E quindi quello che si è registrato proprio nel 1914 è di fatto un segnale molto marcato di quello che potremmo definire una sorta di crisi della seconda internazionale socialista, che infatti l'assassinio di Jean Jaurès ha portato alla nascita di quelle che vengono comunemente definite dal punto di vista storico unioni sacre e in cui partecipano all'interno dei governi appunto anche degli esponenti socialisti. E a questo proposito dobbiamo necessariamente rilevare quella che è il grido, potremmo dire, di dolore di Lienin proprio nel 1914, il primo novembre, il quale asserisce quanto segue. Bisogna constatare con profondo dolore, a proposito dei dirigenti socialisti, che la loro condotta confina con l'aperto tradimento della causa del socialismo. La maggioranza dei partiti socialisti in Europa quindi ha tradito quella che è la causa del partito del socialismo internazionalista. I capi dell'internazionale hanno tradito il socialismo votando i crediti di guerra. 31 luglio 1914, Jean Jaurès viene assassinato. 4 agosto 1914 la Germania, il partito socialista tedesco all'interno, il partito socialdemocratico tedesco all'interno della Germania vota i crediti di guerra all'interno del Parlamento. Questo è un dato importante, unioni sacre da una parte e avallo quindi della guerra in maniera molto esplicita in uno a passaggio fortemente nazionalista. E' questo sicuramente un segno di quello che possiamo definire un tradimento della stessa causa del socialismo. Ripetendo le parole quindi scioviniste della borghesia dei loro paesi, di fatto è come se i socialisti avessero adottato quelli che sono gli slogan propri della borghesia, li avessero fatti propri in qualche modo. Il socialismo sembra quindi caratterizzarsi più verso un orizzonte fortemente nazionale e nazionalista e quindi ha perso quelli che sono i propri specifici connotati. Lenin condanna tutto ciò. Lenin in quanto esole dopo l'esperienza del 1905, dopo l'esperienza di quella che si definisce la prima rivoluzione russa all'indomani della guerra che ha contrapposto la Russia nei confronti del Giappone tra il 1904 e il 1905, per l'appunto Lenin che prima era emigrato verso l'Austria e poi si rifugia con l'aiuto peraltro dei socialisti austriaci verso la Svizzera, osserva appunto questa condizione e in quanto leader dei bolshevichi, di fatto continua a condannare in modo pieno la guerra, la guerra recentemente scoppiata e di cui si vedono comunque già le terribili e nefaste conseguenze per l'intero proletariato il quale si trova a essere al fronte in virtù di quelli che sono gli interessi propri della borghesia. Quindi di fatto si ripetono quelle che sono le parole scioviniste della borghesia, sono parole di Lenin, giustificando e difendendo la guerra partecipando ai ministeri borghesi, la piena condanna quindi di quelle che sono le unioni sacre. La responsabilità di questo oltraggio al socialismo ricade specialmente sui socialdemocratici tedeschi, i quali erano il partito più influente della seconda internazionale. Dinanzi a questo che cosa si poteva fare? Se l'unica autentica speranza, lo diceva Jaurès, proprio potremmo dire pochi giorni prima del suo stesso assassino, era che in qualche modo per salvarsi dal macello di tale barbarie si dovesse pensare che il proletariato di tutto il mondo, di tutta l'Europa, si riunisse senza distinzione di nazionalità, ecco che a Zimmerwald nel settembre del 1915 si riunisce un congresso, un congresso cui ha partecipato per iniziativa del partito socialista italiano, non soltanto socialisti italiani ma anche tedeschi, francesi, polacchi, elettoni, rumeni, bulgari, svedesi, norvegesi, olandesi, smizzari, quindi i principali aderenti ai partiti socialisti internazionalisti, naturalmente in quella frangia che a questo punto abbiamo detto essere minoritaria, la frangia massimalista, la frangia che continua a lottare per l'effettiva rivoluzione. Che cosa effettivamente si chiede? Si chiede quello che è la costante, ormai la guerra era in corso, un elemento costante, il fatto che in qualche modo ci si dovesse battere per la pace, una pace che doveva avvenire assolutamente senza annessioni, e senza indennità di guerra, e però questo chiaramente va al di là di quello che doveva essere lo scopo autentico della internazionale socialista, quindi in realtà si vede quelli che sono gli elementi di crisi, potremmo appunto dire, semplificare, ricordando come il 31 luglio 1914 in un certo senso segni veramente la fine della seconda internazionale socialista, l'ingresso, la partecipazione di tutte le nazioni europee, Spagna, Spagna non entra all'interno del conflitto naturalmente, ma delle principali nazioni europee, all'interno di quella che è la grande guerra, di fatto rappresenta un cambio di passo dal punto di vista proprio dell'internazionalismo, che è entrato prepotentemente in crisi e che appunto ormai con queste unioni sacre, volte semplicemente a accettare la guerra e accettare i crediti di guerra, questa crisi è abbastanza evidente. E però si chiede la pace. Ma Lienin che cosa invece desiderava? Lienin desiderava ben altro. Lienin voleva, pensava che in qualche modo la guerra, la guerra dovesse essere condannata, ma contemporaneamente potesse essere anche una sorta di occasione per permettere alla classe proletaria di prendere definitivamente il potere. Quindi che fosse l'occasione per poter arrivare effettivamente alla lotta, alla rivoluzione, una rivoluzione che a questo punto non poteva che essere europea proprio perché la guerra imperialista era comunque una guerra europea. Quello che effettivamente emerge quindi dal cosiddetto manifesto di Zimmerwalda del settembre del 1915 è una sorta di compromesso, non effettivamente una azione rivendicativa forte. si potrebbe leggere in questo modo e di fatto si va a indicare comunque quelli che sono gli elementi di unione di tutti i proletari d'Europa. Tanto che il manifesto inizia proprio con questa espressione che richiama naturalmente e direttamente il manifesto di Marx ed Engels. Proletari d'Europa la guerra continua da più di un anno. Milioni di cadaveri coprono i campi di battaglia. Milioni di uomini sono rimasti mutilati per tutto il resto della loro esistenza. L'Europa è diventata un gigantesco macello di uomini. Tutta la civiltà che era il prodotto del lavoro di parecchie generazioni è distrutta. La barbarie più selvaggia trionfa oggi su tutto quanto costituiva l'orgoglio dell'umanità. Qualunque sia la verità della responsabilità immediata della guerra una responsabilità che non può essere assolutamente imputata esclusivamente alla Germania. Va subito detto. Oggi gli storici sono concordi sul fatto che la colpa della guerra non sia solo da imputarsi alla Germania. Sicuramente la Germania ha avuto un ruolo molto importante nel momento in cui ha avallato la richiesta dell'Austria l'ultimatum dell'Austria nei confronti della Serbia ma non possiamo dire che la responsabilità sia solo ed esclusivamente tedesca. Jean Jaurès già ce l'aveva detto aveva fatto riferimento a tutti gli elementi di crisi registrati a livello internazionale perché in fondo tutti i paesi tutti i governi con cui i socialisti stavano in quel momento collaborando continuò a evidenziare questo aspetto soprattutto i socialisti i socialisti riformisti eccezione appunto rappresenta il caso italiano va di nuovo ribadita questo aspetto c'è effettivamente una condanna di tutto questo e la consapevolezza che le responsabilità sono quindi di tipo internazionale di crisi che si erano prodotte già da tempo qualunque sia la verità sulla responsabilità immediata della guerra questo è il prodotto dell'imperialismo ossia il risultato degli sforzi delle classi capitalistiche di ciascuna nazione per soddisfare la loro avidità di guadagni con l'accaparamento del lavoro umano e delle ricchezze naturali del mondo intero quindi la borghesia di fatto cerca di sfruttare appieno tutte le risorse umane presenti sul pianeta e tutte le risorse naturali tutto ciò che è presente all'interno del pianeta e solo con l'obiettivo della cupidigia dell'arricchimento quindi uno sfruttamento che è tutt'altro che disinteressato e quindi come si fa a credere ancora alla guerra all'inizio gli operai avevano accolto positivamente appunto la partecipazione alla guerra c'era entusiasmo ma come giustificare il fatto di perdere così tanto la propria vita oppure ritornare in patria mutilati invalidi oppure prigionieri oppure in qualche modo infettati dal tifo e dalle diverse epidemie che in qualche modo si stavano diffondendo i motivi di questa guerra a mano a mano che si sviluppa appariscono nella loro ignominia i vele che fin qui agli occhi dei popoli hanno nascosto il carattere di questa catastrofe mondiale si lacerano gli uni dopo gli altri i vele i vele della propaganda quella sorta verrebbe anche da dire così probabilmente un richiamo neanche tanto implicito al velo di Maya ma anche ovviamente quindi riferimento alla volontà di vivere ma qui non è una volontà di vivere semplice che già produce dolore che produce sofferenza no è qualcosa ancora di più articolato è la volontà di dominio la volontà di potenza che si riferisce effettivamente a Nietzsche all'interpretazione che Nietzsche quindi ha formito della volontà di vivere di Schopenhauer ed è qui il punto questa ideologia questo mascheramento che la propaganda ha fatto una propaganda borghese ormai viene definitivamente meno perché si capisce che dietro c'è la catastrofe una catastrofe mondiale e questo velo ormai è destinato a lacerarsi i capitalisti che dal sangue versato dal proletariato traggono i più grossi profitti si ribadisce come i profitti del capitalismo dei capitalisti non possa che legarsi al sangue versato al sangue degli uomini che sono in prima linea che non sono certo i figli della borghesia i capitalisti affermano in ogni paese che la guerra serve alla difesa della patria della democrazia alla liberazione dei popoli oppressi in realtà qui dobbiamo subito incominciare a pensare che l'unico autentico principio proprio questo è importante che non ci siano annessioni e non ci siano identità di guerra come rivendica appunto il manifesto di Zimmerwald 6 8 settembre 1915 proprio perché quello che deve essere chiaro è il principio fondamentale dell'autodeterminazione dei popoli ogni popolo deve decidere il proprio stesso corso il proprio corso della storia essere autenticamente protagonista delle proprie stesse rivendicazioni quindi almeno in questa fase diverso sarà il discorso rispetto al manifesto successivo dell'aprile del 1916 il manifesto di Kintal sempre località della Svizzera in cui ci si riunisce per discutere di fatto probabilmente anche per indicare una sorta di crisi definitiva ormai il tramontare della seconda internazionale nonostante tutto ma lì a Kintal effettivamente ci sarà una ripresa di quella che è la causa massimalista della rivoluzione della necessità della rivoluzione proletaria quindi del fatto che il proletariato deve approfittare di questa condizione di guerra non per combattere una guerra di tipo capitalistico di una guerra di tipo imperialista ma al contrario per poter prendere il potere perché in fondo la storia è questa storia di sfruttamento del proletariato il proletariato a questo punto ha avuto la lezione non può fidarsi dei governi liberali non può fidarsi dei governi borghesi e non può neanche fidarsi di una grande frangia di una grande effetta del socialismo stesso di quel socialismo che ha cercato il compromesso nei confronti del governo borghese proprio mediante le unioni sacre e mediante l'accettazione anzi l'approvazione esplicita di quelli che sono i crediti di guerra e qui si parla invece proprio di questa ideologia di questo mascheramento di come attraverso la propaganda sia possibile facilmente convincere e siamo a Zimmerwald di come tutto sia al servizio della democrazia un concetto quello della affermazione della democrazia o della esportazione della democrazia del portare ovunque una nuova speranza democratica presente sin dall'inizio del novecento e sicuramente a partire dalla grande guerra europea è un tema quindi che attraversa tutta quanta la storia del novecento fino ad arrivare se potrebbe dire anche alla nostra stessa epoca questo ci permette anche di riflettere sul perché studiare la storia e come la storia del resto la storia unita anche ad un'analisi di tipo filosofico possa permettere storiografico possa permettere la comprensione di molti elementi che sono presenti nel mondo a noi contemporaneo e quindi l'importanza rivestita da questa propaganda e sono questi i veli i veli sono dati proprio dalla propaganda dal fatto che si ripete si martelli sempre sulle stesse presunte verità a cui tutti credono fino a quando poi non si sperimenta quanto la guerra non sia per niente quella guerra lampo che si pensava originariamente ma è diventato qualcosa di guerra di posizione guerra di trincea guerra devastante in cui si deve sfuggire reciprocamente a quella che è quelle che sono le mitragliatrici quindi c'è sempre il rischio della propria stessa vita e le prime vittime le più grandi vittime di questa guerra sono i figli dei proletari e dei contadini e bisogna prendere consapevolezza di tutto ciò questo è il dramma della guerra ecco perché in un certo senso alcune aspetti alcune riflessioni storiografiche hanno messo in evidenza il carattere formativo proprio della grande guerra ed ecco perché gli Enel continuano a insistere sul fatto che questa possa essere una sorta di occasione per arrivare effettivamente a una rivoluzione di tipo proletario quella rivoluzione e qui poi c'è un riferimento ancora una volta al successivo manifesto di Kintal del 1916 nel 1917 il 1917 rappresenta effettivamente l'anno di svolta l'anno in cui si afferma per la prima volta nella storia una rivoluzione che non solo depone depone il principio autocratico degli zar se per questo qui ci sarebbero delle analogie che sono state fatti tra quello che è successo in Russia nel febbraio nella rivoluzione del febbraio 1917 8 marzo 1917 secondo il nostro calendario con quello che si è registrato nel 1789 ed intorni cioè a partire dal 14 luglio nella rivoluzione francese ci sono stati proprio degli accostamenti molto forti anche lì alla fine dopo il 1792 arriviamo effettivamente alla proclamazione nel 1792 della Repubblica abbiamo quindi la fine di ogni autocrazia 1791 formalmente la Francia era diventata una una monarchia costituzionale quindi di fatto non soltanto questo nella prima parte del 1917 ma se andiamo nella seconda parte del 1917 abbiamo appunto la rivoluzione di ottobre 7 novembre 1917 sempre secondo il nostro calendario e questo è un elemento importantissimo perché indica appunto la possibilità da parte del proletariato di prendere effettivamente il potere che ha il diritto quindi stiamo riflettendo anche su come la guerra possa anche essere o possa costituire potenzialmente un motivo di riflessione di consapevolezza da parte del proletariato che quindi non crede più nelle cosiddette ideologie dominanti perché ha sperimentato la contraddizione sulla propria pelle su se stesso in continuazione questo è un elemento che non può che formare quindi ideologia i capitalisti dichiarano in qualche modo che la guerra serva alla difesa della patria siamo all'interno di un aspetto fortemente nazionalista e sono i nazionalismi che hanno portato evidentemente allo scoppio del conflitto che la guerra serve alla difesa della patria della democrazia serve alla liberazione dei popoli oppressi e qui appunto dicevo il principio invece che deve essere in qualche modo affermato è il principio dell'autodeterminazione dei popoli i capitalisti che appunto dal sangue versato del proletariato traggono i massimi profitti mentono questa guerra così dice il manifesto di Zimmerwald questa guerra semina infatti la rovina e la devastazione e distrugge al tempo stesso le nostre libertà e la indipendenza dei popoli esattamente il contrario quindi del principio di autodeterminazione dei popoli si spezza si distrugge ogni possibilità di libertà ogni possibilità di indipendenza dei popoli se è soltanto rovina c'è soltanto distruzione e nuove catene nuovi pesi ne saranno la conseguenza il proletariato di tutti i paesi vincitori e vinti li dovrà sopportare ed è questo il punto quindi anche se in questo momento qui si può dibattere circa la portata del manifesto di Zimmerwald però in questo passaggio c'è già un'idea può il proletariato sopportare quello che effettivamente si è prodotto e fino a quando invece dell'aumento di benessere promesso il principio della guerra noi vediamo un accrescimento della miseria per la disoccupazione per il rincaro dei viveri le privazioni le malattie le epidemie primo fatto riferimento al diffondersi delle epidemie ho ricordato il tifo ma nell'ultima fase della guerra si registrerà una importante epidemia di influenza non se ne conoscevano realmente le cause venne definita la spagnola perché la Spagna come accennato si è mantenuta in una posizione di neutralità nel primo conflitto mondiale e quindi la Spagna ha dichiarato la presenza di questa influenza che stava recando moltissimi morti in realtà sono stati soldati a aver permesso la diffusione appunto del virus dell'influenza e quindi in qualche modo a favorire tutto quello che poi si è prodotto tutti hanno accusato di fatto la Spagna di aver portato questa questa influenza in realtà non è vero dal punto di vista storiografico e in qualche modo la diffusione non solo dell'epidemia dell'influenza ma ovviamente del tifo di tutte le altre malattie è proprio legato appunto agli eserciti ma al fatto che comunque le persone vivessero in una condizione di debolezza di malnutrizione e quindi questo dovrebbe già far riflettere su come lo studio della storia è appunto affascinante proprio perché permette un sviluppo di diversi piani di lettura e anche delle implicazioni notevole nel corso del tempo qui siamo nel 1915 con il riferimento a Kintal siamo nel 1916 ho accennato al 17 con le rivoluzioni russe e però vado avanti e vado a parlare appunto dell'effetto prodotto dalla spagnola all'epoca di Zimmer ovviamente ancora questo non era avvenuto però intanto si parla si parla di questo motivo di crisi appunto malattie ed epidemie e si dice rincaro dei viveri e si parla della disoccupazione quindi di quei fattori che in qualche modo sono importanti per riuscire a comprendere l'immediato dopo guerra quel periodo che in Italia così come in Germania si va a chiamare come bienio rosso si definisce in questo modo un periodo di lotte di contraddizione di difficoltà perché in qualche modo bisognava affrontare nuovi temi nuovi problemi ma i problemi che già in fondo erano ben presenti in questo 1915 a un anno dallo scoppio del conflitto siamo in fondo all'inizio del settembre del 1915 e quindi la guerra aveva era in corso da poco più di 13 mesi si potrebbe dire così le spese della guerra assorbendo le risorse del paese impediscono ogni progresso nella via delle riforme sociali e mettono in pericolo quelle conquistate fino a qui quindi di fatto quei crediti di guerra non sono state altro che la modalità attraverso cui giustificare l'incremento delle spese belliche è evidente è tautologica e non ha fatto altro che assorbire tutte le risorse del paese di ogni paese e quindi non si può progredire dal punto di vista sociale se all'inizio le classi proletari il proletariato ha accettato la guerra perché voleva mantenere la propria condizione di vita precedente quella dell'epoca della belle époque in realtà ci si rende conto che le cose non sono così che in realtà quello che si sta attuando è una regressione nella conquista sociali attenzione che queste regressioni porteranno sì allo scoppio del viagno rosso con una serie di rivendicazioni dopo la guerra ovviamente ma nello stesso tempo non può non sfuggire che i socialismi quando si danno una coloritura potremmo dire di tipo nazionalista potrebbero anticipare qualcosa di successivo quindi in realtà stiamo vedendo come sia molto semplice perdere quelle che sono le conquiste sociali e quindi certo questi socialisti e lo diceva poi spessamente il manifesto di Zimmerwald hanno mandato al potere borghese dei ministri socialisti come ostaggi per il mantenimento dell'unione sacra che sembra quasi essere la soluzione a tutti i mali queste le cause per le quali la classe operaia che non aveva ceduto allo smarrimento generale o che aveva saputo liberarsene non ha ancora trovato le forze e i mezzi per intraprendere una lotta efficace e simultanea in tutti i paesi contro la guerra quindi innanzitutto i proletari a questo punto hanno un compito importante quello di ripristinare assolutamente la pace in questa situazione intollerabile noi rappresentanti dei partiti socialisti dei sindacati e delle loro minoranze perché appunto l'area massimalista ormai è una minoranza all'interno del quadro europeo la seconda internazionale di fatto non esiste più e quello che si ritrova a Zimmermann piuttosto che a Kintal non è nient'altro che una minoranza per l'appunto una sorta di residuati dal dal da quella che è la realtà socialista una realtà socialista molto più inclina invece ad aderire alle cause governative e belliche quindi in questa situazione intollerabile noi rappresentanti dei partiti socialisti dei sindacati e delle loro minoranze noi tedeschi francesi italiani russi polacchi lettoni romeni bulgari svedesi norvegesi olandesi svizzeri noi che non ci collochiamo sul terreno della solidarietà nazionale con la classe degli sfruttatori che rifiutiamo ogni collaborazione nei confronti degli sfruttatori non ci troviamo nel loro stesso terreno noi che siamo fedeli invece alla solidarietà internazionale fra i proletariati dei diversi paesi ci siamo adunati per richiamare la classe operaia ai suoi doveri verso se stessa e per indurla alla lotta per la pace lotta per la pace che però non è la lotta rivoluzionaria autenticamente massimalista questo sarà appunto il compito di quintal proletari fin dall'inizio della guerra voi avete messo tutte le vostre forze il vostro coraggio la vostra costanza al servizio delle classi possidenti per uccidervi scambievolmente vi siete accorti che quello che avete fatto in fondo ma questo ce lo insegna il Natale la tregua di Natale nel 1914 che cosa rappresenta in fondo la tregua di Natale se non la consapevolezza del fatto che i francesi inglesi e tedeschi che si trovano lungo la linea del fronte partecipano in realtà esattamente di quella che sono le stesse medesime condizioni che differenza c'è tra l'essere un soldato tedesco un soldato inglese un soldato francese e successivamente ma qui siamo ancora nel 1914 italiano austriaco e via discorrendo che differenza c'è questa è una identità molto forte la consapevolezza di essere fratelli fratelli nella tragedia di questa insensata guerra quella che poi benedetto quindicesimo definirà non a caso l'inutile strage adesso si tratta restando sul terreno della lotta di classe di agire per la nostra propria causa per la causa sacra del socialismo per l'emancipazione dei popoli oppressi e delle classi asservite operai ed operai madri e padri vedove ed orfani feriti estorpiati a voi tutti vittime della guerra noi diciamo al di sopra dei campi di battaglia al di sopra delle campagne e delle città devastate richiamando la chiusa del manifesto di Marx ed Engels proletari di tutti i paesi unitevi per l'anima